Abbiamo avviato una fase di questi prossimi mesi in cui il Dipartimento porrà al centro le tematiche più importanti della sua mission che sono la terza missione, la didattica e il reclutamento attraverso delle giornate dedicate in cui ci sarà il confronto e verranno delineate le prospettive secondo cui valutare in quest'anno ma anche in ulteriore progressione rispetto al triennio futuro gli esiti e le ricadute della ricerca della terza missione, della didattica e del sistema del reclutamento. Lavorare ad un monitoraggio sui risultati che attraverso ad esempio gli accordi bilaterali di ricerca sono stati conseguiti nell'ultimo e di conseguenza fare una comparazione rispetto agli anni precedenti. L'Ateneo, il Dipartimento è fortemente presente in contesti molto lontani inoltre che naturalmente nelle relazioni con le sedi europee, in modo particolare con una fortissima presenza nelle relazioni con il Sud America. Lo stesso vale per relazioni sempre più solide con gli Stati Uniti e in modo particolare con Columbia University e con il Medio Oriente, altro naturalmente orizzonte importante in un'ottica di diversificazione internazionale degli orizzonti e delle tematiche della ricerca. non ci permettezioni Grazie a tutti.